Questo è il secondo risultato impossibile dopo il primo con 17.500 firme, il secondo risultato impossibile era che tutti i gruppi del Consiglio Provinciale votassero a favore, quindi è un grande risultato che preme i bellunesi e anche i nostri rappresentanti politici. Possiamo dire che il primo passo per una strada che ancora si prospetta tutta in salita? Non abbiamo paura delle salite perché siamo gente di montagna, quindi siamo pronti per fare la salita, da qui non si torna più indietro. Con 21 sì e 2 no espressi dai consiglieri della Lega Nord Mondine-Buzzo, il Consiglio Provinciale di Belluno ha colto in serata la richiesta di indizione di un referendum per l'autonomia della provincia. Volete che il territorio della provincia sia separato dalla Regione Veneto e annesso alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige? Questo è il quesito che sarà sottoposto ai cittadini bellunesi che già in massa in un numero che è andato ben oltre le previsioni del Comitato Referendario ha sottoscritto la richiesta presentata al Consiglio Provinciale. 17.500 firme raccolte in pochi mesi dalla fine della scorsa estate ai primi giorni di dicembre. Impossibile non tenere conto della volontà popolare, uno stimolo per la politica e le istituzioni. Certo, tutti oggi sono consapevoli che il percorso non sarà semplice, che non c'è casistica in questo senso. Se la Corte di Cassazione darà il via libera alla consultazione popolare, la provincia di Belluno sarà la prima in Italia ad esprimere la volontà di lasciare una Regione per chiedere contestualmente l'annessione ad un altro territorio. Il Consiglio ha anche espresso due delegati, uno effettivo e l'altro supplente, che avranno il compito di depositare il materiale alla Corte di Cassazione e di seguire l'intero ITER. Il testo sarà trasmesso a tutti i comuni e alle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige.